L'11 marzo l'incontro presso il Comune di Venezia è la firma del protocollo d'intesa con l'Associazione Veneziana Albergatori per progetti di alternanza scuola-lavoro che vedranno coinvolti gli studenti del Di Poppa di Teramo. Questo per dare la possibilità ai nostri alunni di fare delle esperienze di alternanza scuola-lavoro fuori dal nostro territorio, in una località turistica all'avanguardia come la città di Venezia, in alberghi a 5 stelle. Chiaramente i nostri ragazzi avranno la possibilità di fare un'esperienza di eccellenza. Quale sarà il primo step? Quindi abbiamo subito deciso di iniziare questa esperienza con l'organizzazione di un evento promozionale presso un albergo di Venezia e il nostro personale, quindi gli insegnanti tecnico-pratici di cucina, di sala e di accoglienza turistica organizzeranno questo evento insieme ai nostri studenti, quindi le competenze di tutto il mio personale ci permetterà di organizzare questo evento. La novità sarà anche la degustazione di prodotti tipici del nostro territorio. Saranno i produttori della nostra eccellenza, la ditta l'azienda Montecchia, Fracassa, l'Alpino, la Tacchinella, Di Domenico Antonio, la Loggia Antica, Tassoni Tartufi, Del Colle, Castelcastagna, Masciarelli, Nicodemi, Biaggi e Cioti. Come vedete l'eccellenza del nostro territorio. È una soddisfazione immensa sapere che il mio comune, la mia agenda, il mio territorio, insomma, arriva a Venezia, come dire, in pompa magna, con il supporto ovviamente del BIM che io ringrazio per la grande disponibilità dell'Istituto di Poppa e di tutti coloro che hanno patrocinato l'evento e danno delega al sottoscritto di rappresentare l'Abruzzo in una città importante come quella di Venezia.